Sarà una o due giorni nel nome della legalità che coinvolgerà autorità, associazioni, forze dell'ordine. Il movimento anti-racket SOS Imprese a Rete per la Legalità si ritroverà a patti venerdì 19 e sabato 20 aprile per dare vita a due incontri. Venerdì si terrà una manifestazione di solidarietà nei confronti dell'azienda Mammana di Castel di Lucio, che di recente ha fatto i conti con l'incendio di un proprio automezzo, come in passato, su cui stanno indagando le forze dell'ordine. Poi nel pomeriggio si terrà l'Assemblea Nazionale presso l'hotel La Playa di Patti, con i rappresentanti di varie associazioni. Sabato 20 aprile l'appuntamento è con le istituzioni, attraverso un incontro moderato dal giornalista Giuseppe Romeo e aperto dal sindaco di Patti Gianluca Bonsignore. Un convegno di respiro nazionale, ci saranno anche le relazioni di Giuseppe Scandurra e Luigi Cuomo, rispettivamente vicepresidente e presidente nazionale di SOS Impresa, Rete per la Legalità. Non è un caso che l'Assemblea Nazionale si svolga in Sicilia e in particolare sul territorio messinese, che si è contraddistinto per la mole di attività svolta con un importante numero di denunce da parte degli imprenditori, che abbiamo accompagnato passo dopo passo, dice Giuseppe Scandurra. Molto significativo per noi l'incontro presso l'azienda Mammana, storicamente in prima linea contro il racket, e a cui siamo da sempre vicini per ribadire la nostra presenza concreta.